La questione dei social, del web che sta imperversando ci porta chiaramente a rivedere in maniera diversa la nostra professione, quindi l'approfondimento della notizia, non stare troppo sul desk a prendere online il pezzo magari riutilizzando la velina, ma cercare di approfondirla, non solo perché siamo un settimanale, questo impone di guardare molto la qualità. Roberto parlava prima della formazione, è fondamentale.